Fare in piazza paura fuori al municipio di San Marcellino e quanto successo poco prima di mezzogiorno nella centralissima piazza municipio dove assedi il comune del piccolo paesino del Casertano. Antonio Favarolo è stato ferito con tre colpi di pistola esplosi dalla moglie. Il tutto è avvenuto all'interno di un bar che si trova proprio di fronte al palazzo comunale. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Aversa ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico ma per i medici non sarebbe in pericolo di vita. A quanto pare a far scattare la rabbia della donna sono state motivazioni legate all'attività di pompe e funebri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aversa. La donna è stata bloccata ed è sotto interrogatorio. Segue stata l'arma utilizzata dalla donna per ferire l'uomo. Si tratta di un revolver con matricola a brasa. Il fatto è successo a metà mattinata quando per strada c'erano donne e bambini ad intervenire ai vigili urbani come racconta il comandante della municipale Francesco Fabozzi. Sicuramente è una zona centrale molto trafficata quindi poteva succedere qualcosa di molto tragico in sostanza anche perché è una zona dove è frequentata i cittadini, il comune, le persone, i bambini. Ci sta in via vai. Quando siamo venuti noi già era stato portato subito da poco, però abbiamo subito bloccato l'aria, abbiamo evitato la dispersione delle prove, poi abbiamo atteso i carabinieri e la polizia che intervenissero sul posto.